Cagliari e Dalguero al centro-destra, Sassari al ballottaggio, altissima l'astenzione. Dalle comunali in Sardegna molte conferme e poche sorprese. Continua il momento negativo dei 5 Stelle, male anche il PD mentre la Lega conquista il primo comune nell'isola, a Illorai nel Sassarese. A Cagliari in vantaggio il candidato sindaco del centro-destra, Paolo Truzzu, su Francesca Ghirra del centro-sinistra. Mentre a Sassari si andrà al ballottaggio tra Mariano Brianda, centro-sinistra, e Nanni Campus, a capo di una lista civica. Ad Dalguero invece Mario Conoci, del centro-destra, diventa sindaco al primo turno. Risultati quelli in Sardegna accolti con soddisfazione dal leader leghista Salvini, impegnato nel viaggio negli Stati Uniti dove incontra il vicepresidente Pence e il segretario di Stato Pompeo, Salvini, che torna anche sul taglio delle tasse. Comincia invece il sesto giorno di stallo per la Sea-Watch a largo di Lampedusa con i 43 migranti rimasti a bordo. Ieri il via libera allo sbarco di alcuni minori, donne incinte e persone malate. E la notifica da parte della Guardia di Finanza del decreto sicurezza bis che prevede multe da 10 a 50 mila euro e l'eventuale confisca dell'imbarcazione in caso di ingresso in acque territoriali italiane.